La Francia non ci piove, siamo tutti d'accordo come siamo tutti d'accordo. Persino voi due siete d'accordo? Persino noi due, ma finisce lì. La lega e il potere al popolo. Ma finisce lì perché poi sul fatto che queste persone siano esseri umani mi sembra che allora poi lo dovremmo dire a 360 gradi perché la Francia ha le sue responsabilità. Il trattato di Dublino va stracciato, va fatto a pezzi e io sono d'accordissimo perché il trattato di Dublino costringe le persone a rimanere nel paese di primo arrivo impedendogli eventuali... Cioè dove arrivi devi restare? Dove arrivi devi restare, detto in parole povere, è più complessa di così ma in sostanza è questo. Il problema è che questo tipo di politica che tratta queste persone come dei pacchi, come degli oggetti da scaricare da una parte e da un'altra la fa anche l'Italia, la facciamo anche noi. E al di là dell'aspetto dell'umanità... Si faceva da noi, non si fa più. Si faceva da noi e non si fa più. Però se mi fa finire così al limite il problema è che esiste una questione di sicurezza che si sta volutamente ignorando. Io non parlo neanche della questione dell'umanità perché per me è la principale e voglio fingere di darla per assodata anche se non sono convinta che per tutti qui in mezzo lo sia. Dico che però mettere le persone all'angolo ridurle a uno stato di disperazione perché delle persone che stanno con le ciabatte a piedi nudi, d'inverno... Sì, e poi passano il confine in montagna. Significa creare insicurezza sociale. L'insicurezza sociale è questo. Non la permanenza di migranti ma la riduzione delle persone straniere e italiane povere in una condizione di visaggio tale che poi sono disposte a fare di tutto. Ti vuole parlare di sicurezza. Guardi, ha ragione. Ti vuole parlare di sicurezza. Parli di questa sicurezza. Parli di sicurezza sociale. Parli di questa sicurezza sociale. Parli di alcuni punti che io credo infatti che la cosa migliore da fare come diceva Sgarbe all'inizio e purtroppo in questo la Francia ha grandi responsabilità queste persone si aiutano evitando che partano evitando che affrontino quei viaggi evitando che la guerra che qualcuno ha voluto fare prendesse piede. Tant'è che non a caso non a caso non a caso abbiamo fatto lo stesso l'Ignavi è un peccato non a caso Greco, mi perdoni non a caso perché poi si devono confrontare sempre i dati e i numeri perché così la gente anche chi ci sta guardando questa sera lo capisce non è un caso che da quando c'è questo governo da quando c'è Matteo Salvini alla guida del Viminale stesso periodo 2017 comparato con i dati del 2018 fa sì che gli sbarti in Italia siano passati da 110.000 a 21.000 vuol dire aver contribuito vuol dire aver contribuito ad evitare che le persone non solo morissero in mare prima cosa le persone stanno morando in mare e stanno morando le carceri ma soprattutto si è evitato un proposito di buonsenso io quello che mi domando e poi su questo possiamo avere parere di differenze io ho un'impressione siccome mi sembra che questi provvedimenti da un punto di vista strettamente economico abbiano un'incidenza ridicola e che non sia questo il motivo per cui poi eventualmente i bambini italiani hanno problemi ad accedere ai libri alla menza eccetera eccetera ma perché ci sono tagli consistenti rispetto a questi settori che riguardano tutti la mia impressione ma forse sono maliziosa io perché qui si sta dicendo che addirittura se si va a un consolato si riescono a ottenere documenti incredibili io inviterei chi lo dice a provare a farlo con un consolato italiano all'estero senza andare in Siria in Mali in Gambia ma andando semplicemente in un paese europeo e provare a fare la stessa operazione e poi mi racconta io l'ho fatto di solito il consolato funziona però non è così drammatico perché non è il mestiere dei consoli comunque io ho l'impressione che qui si stia giocando semplicemente sulla propaganda cioè che il problema non è recuperare realmente dei fondi o fare un qualcosa di equità di giustizia ma semplicemente siccome non costa niente dire queste cose demagogiche come dire e giustamente lo si diceva prima che c'è gente che attraversa il mare rischia la vita e poi non si sa perché c'ha le piscine e c'ha le ville al paese suo il che mi sembra francamente ridicolo però dirlo significa alimentare un clima e scaricare una serie di responsabilità e di colpe su chi responsabilità e colpe non ne ha perché essere povero o essere straniero non è una responsabilità e non è una colpa invece di guardare a chi realmente ci ha affamato che sicuramente non sono questi disgraziati che non possono che sono i politici che stanno ma io non è che non è che ho problemi la manovra che ha fatto questo governo è una manovra che tocca i poveri italiani non stranieri italiani scusi il reddito di cittadinanza però a lei non piace come idea che viene da sinistra mi piace come idea astrettamente ma per come è stato realizzato non è neppi e nemmeno del rei di gentiloni neppi e nemmeno di questo e aggiungo scusatemi soltanto per postilla ma ognuno ha i suoi vizi che invece comunista ci sono non mi offendo se mi ci chiama così e penso anche i comunisti in questo paese abbiamo fatto grandi cose a differenza della vera giova che sia